C'è un altro motivo professionale per cui approfitto di questa straordinaria cantiglione ed è per sentire il canto delle sirene, ecco. Mi è capitato già una volta di sentire il canto delle sirene una notte con Christopher Wonder, una di quelle notti in cui la birra sembrava non bastare. E quindi vorrei sentirlo di nuovo e per questo forse lo sentiremo insieme, grazie alle sirene parleranno anche una lingua comprensibile per tutti. Ecco, io volevo dirvi che sono contento di non avere dato seguito ai miei studi di chimica. Anche noi! Mi ricordo solo la prima legge dei gas. Dice così Un gas si espande finché ha spazio. Come la birra. E prende possesso di te, ecco. E' la voce della coscienza. No, use la voce della coscienza. Bene. C'è ancora un po' di spazio. M. Bofo. M. Bofo. Io mi ricordo... C'è ancora un po' di cose. Le Miracle de la Pierre, change l'idioma, è proprio la banca. Volevo fare un pezzo, cose sulle sirene, anche perché come ha detto qui nella sede del Parlamento europeo, ecco, volevo riprendere un discorso che ha fatto il grande Penigni quando è venuto qui, in effetti metà di questo concerto lo dobbiamo assolutamente al mito greco. Quindi io personalmente mi sento molto in debito con la Grecia. Grazie. 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 Grazie.